Si raccusa quale festa della Repubblica Italiana con disparità di cittadini di serie A e B? Riflessioni a margine della festa della Repubblica Italiana che è una giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Il cittadino è consapevole dei festeggiamenti che ogni anno si svolgono il 2 giugno data del referendum istituzionale del 1946 con la celebrazione principale che avviene a Roma. La festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli patri italiani. Come tradizione vuole che il cerimoniale della manifestazione si svolga in ogni capoluogo di provincia. A Roma si è svolta la deposizione di una corona d'alloro in omaggio al milito ignoto all'altare della patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana e una parata militare lungo via dei fori imperiali così come a Milano, a Torino e altre città compresa Palermo in piazza Vittorio Veneto con la cerimonia in memoria dei caduti a Catania, al Sacrario Militare della Chiesa di San Nicola dell'Arena e dopo alla Villa Bellini ed altro. Qualcuno storcia il muso e rileva il fatto perché solo a Siracusa, la festa della Repubblica Italiana, è itinerante escludendo il capoluogo. Con rispetto della comunità di Palazzola Crede, Ferla che a sommati raggiungono oltre 10.000 abitanti contro i 120.000 di Siracusa. È chiaro che siamo in atto ad una disparità notevole. Transiat lo scorso anno, che è stata realizzata a Cassibile, ancora nel perimetro urbano, ci si aspetta che il prossimo anno si svolga a Pacchino o altro per sottoscrivere la carta della legalità che a differenza di Ferla, innocua, risulterebbe comunità segnata dalla criminalità, tant'è che la precedente amministrazione comunale fu sciolta per infiltrazione mafiosa. Ma forse le nostre istituzioni soffrono dell'affetto climatico a primavera e estate? Non è dato sapere. È regola che per la festa della Repubblica Italiana la corona da loro si ponga al milite ignoto di Siracusa per rispetto della città capoluogo e dopo le successive manifestazioni si possono fare anche sulla luna. Una comunità può essere definita tale sulla base di elementi oggettivi, etnolinguistici, culturali e storici e soggettivi, la consapevolezza di un destino comune, la volontà di vivere assieme, il riferimento al capoluogo diversamente miscelati nei diversi contesti storico-geografici. La festa della Repubblica Italiana forse è diventata sempre più un scollamento sociale e politico anche nell'affrontare i nodi cruciali ed economici nel Paese, come risulta francamente incomprensibile la mancata richiesta da parte del governo italiano di inserire la raffineria di Priolo e la Sicilia tra le deroghe previste nel nuovo pacchetto di sanzione sul petrolio russo, permettendo all'Ungheria, di cui Draghi e seguaci di Orban, di approvisionarsi via elodotto fino ad arrivare in nord d'Italia danneggiando la Sicilia. Siamo davanti a un'abnorme disparità di trattamento, altro che festa della Repubblica che dimentica le popolazioni meridionali come cittadini di Serie A e Serie B.